Il nostro laboratorio virtuale che ci consentirà di definire quelle che vengono chiamate forze d'attrito radente, statico e dinamico sarà definito da una stanza in cui potremo utilizzare un tavolo, un libro di fisica che vedrete già ben posizionato e su cui potremo applicare delle forze, la cui direzione e il cui verso saranno definiti a partire dal dito di una mano. Utilizzeremo anche altri oggetti nel corso della video lezione ma li introdurremo quando sarà necessario parlarne. Ora, se in effetti poggiate un libro su un tavolo e provate a spingerlo con un dito cercando di imprimere una forza tra virgolette piccola potete osservare che il libro può restare ancora fermo aumentando gradualmente, cercando sempre di limitarsi a forze tra virgolette piccole possiamo osservare che il nostro dito non riesce ancora a spostare il nostro amatissimo libro di fisica fino a quando in un certo istante si raggiunge un valore della forza impressa dal nostro dito che sarà in grado di spostare il libro di fisica che potremo spostare ulteriormente all'incirca lungo la stessa direzione una volta messo in movimento anche con forze di intensità minori rispetto a quella utile ad avviare il moto. La domanda che potreste effettivamente pormi è la seguente Viste anche le video lezioni già caricate sul canale youtube un quarto ora con il prof relative alla forza peso e alla forza elastica che tra l'altro appariranno tra qualche istante in due link qui in alto abbiamo osservato che quando un corpo è in equilibrio la somma delle forze che agiscono su di esso è pari al vettore nullo e allora torniamo un attimo indietro nel momento in cui all'inizio abbiamo applicato delle forze variabili al libro senza riuscire però a spostarlo ad esempio proprio all'inizio del nostro esperimento in questo caso il corpo è in equilibrio ma mentre la sua forza peso è bilanciata come abbiamo già visto in altri contesti dalla reazione vincolare impressa dal tavolo sul libro Questa forza che invece stiamo applicando al libro ma che non consente lo spostamento dell'oggetto sul tavolo che è quindi in equilibrio da quale altra forza risulta bilanciata? Tranquilli? E' proprio la forza che stiamo cercando infatti si tratta di una delle possibili forze d'attrito radente che sono forze di natura elettromagnetica che agiscono su un corpo quando è a contatto con una determinata superficie quindi in questo caso la forza d'attrito che andremo a descrivere tra poco dipende dal contatto tra il libro di fisica e la base del tavolo che stiamo analizzando Andiamo però a osservare il fenomeno da un'altra prospettiva quindi da un'inquadratura diversa e osserviamo che ci troviamo in questa situazione Abbiamo una forza che abbiamo rappresentato non a contatto con il libro come nel caso precedente ma in un'altra posizione nello schermo per evidenziare alcune proprietà che vi saranno chiare tra poco che spinge il libro nella direzione est-ovest verso ovest diciamo a sinistra Il libro in questo caso è fermo perché siamo nell'ipotesi in cui la forza applicata dal dito non è ancora sufficiente a generare tra virgolette il movimento come abbiamo già accennato lungo la direzione nord-sud ossia lungo la verticale l'equilibrio è dovuto al bilanciamento della forza peso garantito dalla reazione vincolare infatti nella nostra ipotesi il libro non sfonderà il tavolo e quindi la forza trituradente che dovrà equilibrare l'unica forza in gioco ancora non bilanciata e che abbiamo chiamato F dito avrà la stessa direzione tra forza stesso modulo ma verso opposto quindi potremmo rappresentarla in questo modo e l'abbiamo chiamata F A per indicare appunto che si tratta di una forza d'attrito ma prima di passare alla deduzione delle reggi con cui sarà possibile descrivere la forza d'attrito radente dobbiamo operare ancora due osservazioni infatti non è ancora chiaro il motivo per cui dal contatto di due corpi in questo caso definito dal libro di fisica e dal tavolo si riesce a rilevare la presenza di questa forza in che modo può variare visto che il libro resterà fermo per valori sempre crescenti della forza se citata dal dito fino al raggiungimento di una sorta di valore massimo che garantirà al libro di fisica da quel momento in poi di muoversi anche sottoposto a una forza minore rispetto a quella necessaria per sganciarlo tra virgolette dalle sue condizioni di equilibrio per definire il primo punto bisogna in realtà osservare che la superficie del tavolo del libro di fisica e di qualsiasi oggetto non è mai completamente liscia nella realtà e lo vediamo andando a zoomare questa immagine possiamo evidenziare attraverso questo esempio che le superfici a contatto sono scabre e che andando a zoomare ancora quello che accade nella realtà è che le due superfici non aderiscono completamente l'una all'altra ma hanno dei punti di contatto in cui si creano delle microsaldature che come abbiamo già accennato sono di natura elettromagnetica e tengono tra virgolette incollato nel caso considerato il libro di fisica alla superficie del tavolo quindi per spostare attraverso una forza il libro dobbiamo rompere questi punti di contatto che si sono creati e che generano una forza d'attrito che è quindi una forza di resistenza che una volta bilanciata consentirà al libro di muoversi tuttavia una volta in movimento è necessaria una forza minore impressa dal dito per spezzare lungo il moto le possibili giunture che andranno a crearsi l'usura degli oggetti è legata a questo fenomeno e alla variazione della superficie scabra che è a contatto con un tavolo o anche con altre superfici durante un movimento che può essere relativo al contatto della nostra scarpa con la strada o con la breccia o con l'erba durante una passeggiata di un mezzo di trasporto con l'asfalto di una strada e altro ancora e anche se ormai non vedete l'ora di visualizzare la legge consente di calcolare la forza d'attrito in determinate condizioni vi ricordo che c'è ancora una seconda riflessione che dobbiamo effettuare che riguarda le differenze tra l'attrito dovuto a un corpo in equilibrio e all'attrito che caratterizza i corpi in movimento e quindi riducendo lo zoom possiamo introdurre i concetti di forza d'attrito statico e dinamico in relazione ai casi in cui rispettivamente il sistema è considerato risulti in equilibrio nel caso statico o in movimento nel caso dinamico considerando che per le forze d'attrito statico è possibile definire un valore relativo alla forza d'attrito statico massimo che definisce la forza necessaria come nell'esempio del libro che deve essere impressa dal dito per avviare tra virgolette il movimento e passiamo quindi alle leggi partendo proprio dalla forza d'attrito radente statico massimo osservando che il suo valore dipende sicuramente dal tipo di superficie a contatto dipendendo il nostro esempio con il libro un'automobile che ad esempio cammina sull'asfalto è soggetto a una forza d'attrito radente diversa aspetta un manto più irregolare che oppone maggiore resistenza per cui è possibile definire una forza d'attrito statico massimo di intensità maggiore ma c'è un altro fattore oltre alle superfici che definiscono il contatto che influisce nella definizione di forza d'attrito e che riguarda almeno nel caso considerato la forza peso di un corpo infatti torniamo a zoomare la nostra immagine se a causa della nostra sete di sapere andassimo a recuperare un altro libro di fisica e se lo poggiassimo su quello già adagiato sul nostro banco ci ritroveremmo in una situazione diversa e che potete verificare di persona infatti la forza da applicare al nuovo sistema costituito da due libri per metterli in movimento sarà legata a una forza di intensità maggiore che dovrà essere impressa dal dito e che quindi andiamo anche graficamente a variare a cui sarà quindi associata un'intensità della forza d'attrito massimo maggiore rispetto al caso precedente e che andrà a bilanciare la forza impressa dal dito può sembrare contintuitiva la possibilità legata al fatto che la forza d'attrito può variare a seconda dei corpi considerati ma in realtà se ci pensate è una caratteristica che è simile a quella che definisce le reazioni vincolari infatti in questo caso avendo raddoppiato la massa raddoppierà anche la forza peso come abbiamo già visto sul video dedicato sul mio canale youtube e che verrà bilanciata da una reazione vincolare doppia naturalmente anche se la reazione vincolare può variare a seconda della massa del corpo appoggiato su una determinata superficie quindi su un vincolo dopo un certo limite definito dalle forze di coesione ad esempio del banco che regge i due libri di fisica in questo esempio non potrà bilanciare la forza peso e il nostro vincolo si romperà quello che però vogliamo far osservare è che comunque la forza d'attrito come la reazione vincolare può variare in base alla variazione della forza peso che preme su una direzione perpendicolare alla superficie d'appoggio dove viene considerato il moto dei due libri detto questo possiamo finalmente passare alle leggi con cui è possibile definire la forza d'attrito statico e la forza d'attrito dinamico il primo aspetto da osservare è che è possibile dimostrare che la forza d'attrito statico massimo e la forza premente che in questo caso è pari alla forza peso sono direttamente proporzionali e quindi il loro rapporto risulta costante e tale costante viene chiamata coefficiente d'attrito statico che varia a seconda dei materiali delle superfici a contatto nei fenomeni considerati da tale osservazione è possibile dedurre che la forza d'attrito statico massimo è definita come il prodotto del coefficiente d'attrito statico per la forza premente ora tornando al nostro esempio in questo caso il valore della forza di attrito statico che quindi non chiameremo fa ma fs sarà definita dal prodotto del coefficiente d'attrito statico ks che spesso viene anche indicato con l'espressione mu s e che ripeto dipende dalle superfici di contatto e ce ne sono diversi di cui conosciamo già il valore per la forza peso tuttavia ci sono dei casi in cui la forza premente non coincide assolutamente con p consideriamo un esempio che troverete almeno a primo impatto un po' strano ma che in realtà risulterà significativo per comprendere le proprietà delle forze di attrito infatti consideriamo in una stanza che stanco di restare sul banco viene poggiato lungo una parete naturalmente nel momento in cui il libro viene lasciato in quest'area tenderà a cadere per effetto della forza peso tuttavia andando a bloccare con una mano il libro riusciremo a tenerlo grazie a una determinata forza F con cui premiamo il libro in modo che possa aderire il più possibile alla parete e che ci consente di raggiungere un equilibrio in tal caso la forza attrito c'è e si oppone al movimento che avrebbe naturalmente il libro di fisica se non fosse sottoposto alla forza della nostra mano F che cadrebbe a terra lungo la verticale per effetto della forza peso che è appunto bilanciata dalla forza attrito statico che si esercita per il contatto tra la superficie del libro e quella della parete e per cui la forza premente non è data dalla forza peso ma dalla forza che giace sulla direzione perpendicolare alla parete che è appunto la forza F e passando ad un altro esempio se andassimo a considerare ad esempio un piano inclinato che può essere rappresentato da un banco tipico delle aule in cui è possibile disegnare appunto attraverso un'inclinazione e che se realizzato con determinate superfici riesce comunque a tenere rispetto a un certo angolo di inclinazione in equilibrio un libro di fisica che ci farà in un'area di disegno vi chiederete voi beh pensate al fatto vi rispondo io che la fisica è artistica per cui ci consente di fare anche questa osservazione in questo particolare sistema la forza di attrito statico che è in equilibrio il libro di fisica perché riesce a bilanciare la forza P parallelo mentre la forza premente in questo caso quindi ortogonale alla direzione su cui stiamo considerando le due forze appena citate è definita da P ortogonale per cui in questo caso FS sarà definita dal prodotto del coefficiente di attrito statico per P ortogonale potete rispolverare le proprietà della scomposizione della forza peso P nelle due direzioni rispettivamente parallele perpendicolari al piano che abbiamo sfruttato con questo esempio grazie a una video lezione a cui potete accedere cliccando su un link tematico che apparirà tra pochi secondi qui in alto detto questo possiamo concludere questa video lezione osservando che la forza d'attrito dinamico di cui ci siamo dimenticati solo apparentemente può essere definita in maniera analoga rispetto al caso statico come segue ossia come il prodotto di un coefficiente chiamato in questo caso coefficiente di attrito dinamico moltiplicato per l'intensità della forza premente allora mentre nel caso della forza premente possiamo ricondurci alle osservazioni fatte in precedenza nel caso dell'attrito dinamico bisogna osservare che il coefficiente di attrito dinamico relativo a un determinato materiale che può costituire la superficie d'appoggio differisce dal coefficiente di attrito statico rispetto alla stessa superficie e in particolare risulterà minore del coefficiente di attrito statico ripeto questo vale sempre in relazione ai coefficienti stabiliti rispetto alle caratteristiche delle superfici a contatto le forze di attrito inoltre comprendono non solo il caso di quella radente ma anche di quella volvente dovuta al rotolamento di un corpo durante un moto e all'attrito viscoso dovuto al contatto con un fluido ma di questo parleremo in altre sedi chiaro?